Grazie al satellite Fermi, per la prima volta è stato possibile studiare in raggi gamma l'effetto di una lente gravitazionale. Il percorso verso la Terra di un lampo di luce gamma proveniente da un blazar è stato sdoppiato dalla gravità di una galassia che si trova esattamente sul suo percorso, producendo un secondo segnale che è l'eco ritardata del primo. Una scoperta attesa da tempo, per cui occorre una doppia fortuna. Sì, doppia fortuna, bisogna che collaborino le cose celesti e quelle terrestri. Prima di tutto ci vuole una grande fortuna per trovare una sorgente che si trovi esattamente dietro a una lente, una grande concentrazione di massa, nel nostro caso un'altra galassia. L'ulteriore colpo di fortuna che ci vuole qui da Terra, ma anche questo supportato da grande lavoro ed edizione, l'abbiamo avuto io e altri colleghi dell'istituto, perché proprio nella settimana in cui eravamo di turno per osservare il cielo gamma, abbiamo effettivamente visto l'eco del primo flare fatto da questa sorgente. Per cui questa sorgente si era illuminata alcuni giorni prima che noi entrassemo di turno e nel momento in cui noi abbiamo cominciato a lavorare, ecco che si è riaccesa di nuovo. Per cui è scattato questo campanello e abbiamo pensato non è che si tratti dell'eco e in effetti proprio di questo si trattava, come è stato poi confermato da tutte le osservazioni successive. In questa immagine vediamo la parte ottica di questo sistema in cui effettivamente vediamo le due componenti, perché nell'ottico e nel radio siamo in grado di separare l'immagine principale da quella ritardata. Nel gamma questa cosa non è possibile, per cui quello che si riesce a fare è studiare la curva di luce, ovvero, e adesso lo si vede abbastanza bene, se nell'ottico riusciamo a vedere l'illuminarsi alternato delle due sorgenti, diciamo della sorgente e della sua immagine ritardata, nel gamma questa cosa invece non si vede. Bisogna sfruttare la curva di luce, ovvero la variazione temporale dell'arrivo dei fotoni. Per cui si vede che i due percorsi effettuati dai fotoni che partono dal bladar e che attraversano, venendo rallentati dalla galassia che è frapposta fra noi e la sorgente, arrivano con tempi diversi. E quindi quello che noi vediamo nel gamma, dove appunto la risoluzione diventa più povera e quindi non distinguiamo più le due componenti ma vediamo un'unica sorgente luminosa, però è grazie alle modulazioni della curva di luce che riusciamo a capire che effettivamente vi sono due immagini della stessa sorgente. L'importanza grande di aver misurato il ritardo dell'illuminarsi della seconda immagine rispetto alla prima è forte perché di sorgenti non ne conosciamo tante, sorgenti lensate, ma di sorgenti con un ritardo misurato non ne conosciamo tantissime, in particolare nel gamma ne conosciamo una sola, che è questa. Le implicazioni sono duplici. La prima riguarda la struttura del getto. Abbiamo visto che il ritardo misurato nel gamma è leggermente diverso da quello che noi osserviamo nel radio e questo significa che le regioni di emissione non sono proprio completamente ecospaziali e questo quindi ci porta informazioni su come è fatto il getto relativistico che parte da questo buco nero supermassiccio. La seconda implicazione importante di aver misurato il ritardo è legata invece al mezzo che c'è fra noi e la sorgente, in particolare la distanza che c'è fra noi e la sorgente e questa è una quantità molto importante non tanto per la fisica dei getti quanto proprio per la cosmologia, le dimensioni e la velocità con la quale l'universo si espande. Grazie.